BELLA! BELLA! Siamo i Graz! Non ne abbiamo mai fatto una cosa tutta insieme Questo era un intro e noi siamo su In Segreto di nuovo oggi con ospite speciale Allora siamo Vabbè Siamo su In In Segreto Lei sa sicuramente cosa è in segreto no? Spiegacelo Praticamente è gente che dice Cazzo in segreto Fa la piega Soltanto che dice In segreto appunto quindi Nessuno sa chi è Che genere di segreti ci scrive Di tutti i tipi 8 sicuri Di tutti i tipi La classica risposta è che non sa che di Comunque no, lei non sa cosa è in segreto Ce l'ha scoperto oggi però Appena ha visto cos'era ha detto si facciamo un video Che bello dobbiamo farlo assurdamente E quindi lo facciamo Vero? Vai cominci alla cedeve che sei esperta Allora entriamo in casa Con mio marito eccitati Andiamo in camera da letto e lui Mi spoglia e voleva buttarmi sul letto Il segreto Mi ha buttato sul pavimento Ora dovrò operare Cazzo amore E subito dopo l'operazione ti scoprò Come se non ci fosse un domani Cioè questo si è sbagliato ha preso ma la mira Cioè se non riesce a più la mira buttavami sul letto E immaginavo certi buchi come se la cava Ma quanti c'è vabbè Vabbè comunque Ma poi manca di che è incazzata capito? No no non vedo soltanto che è soperata Che li rimettano a posto insomma la sotto per essere infilata Uomo di 14 anni Ieri una ragazza piangeva sotto il mio balcone Sono sceso subito e l'ho consolata Per esempio quelli che non sanno scrivere Lei mi ha detto che un abbraccio Era una cosa che non sentiva da 5 mesi Perché si era scordata che la vita non è solo tecnologia Ma anche amore Te cosa ne pensi questa cosa? C'ho 14 anni A sto punto Vabbè io penso che Mi masturbo tutte le mattine con il getto d'acqua Fino a raggiungere l'orgasmo Mi dà quell'energia e mi fa svegliare Mi dà la carica per tutto il tuo Mi dà energia? Ma che dove ti fa? E' una donna di 15 anni L'avevo contattata dai Lo so io non sono una donna Se faceva 15 anni sta cosa Ma che motivo a me? Se ne lo fa lo faranno Però quindi non nega Non nega Mi odio perché i miei fratelli Mi dicono sempre Che non farò mai nulla da grande E che non farò Non so fare nulla in confronto a loro E non sono nulla Io questo Lo vorrei dire anche a qualcuno No Ho inventato pure anche Non ce l'avrò mai Ma non ci vedo Ma non ho molti Amici Non ho molti amici E non ho nessun amico così stretto Quindi C'ho messo un quarto d'ora Per leggere sto coso Ma lo sai quella cosa bella? Che non fa ridere questo segreto Quindi le primo tutto Lo dovevo dire Non le posto più Non lo so Non lo so In segreto Vabbè Donna di 14 anni Oh no 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 Se mio padre si convincerà Questo Questo babbo natale No che babbo natale Mia sorella Ha sempre lo stesso Il mio ragazzo ha un fratello piccolo Che è totalmente indisciplinato Ma il ducato è il lagnoso Cioè gli piacciono i lasagne Nessuno lo rimette mai al suo Ma che c'entra? E ogni capriccio è sempre soddisfatto Mi auguro di non rimanere mai sola con lui Altrimenti due sberle non le tratterò davvero I feel violenta Il film sta contenta Cioè la pubblicità proprio Ho disinstallato Clash of Kings Ma non è Clash of Kings Ma è Clash of Kings Non so Levando la connessione da Google Play Mi ha levato la televisione Sul mano e PC per un mese Non glielo la fa Sono entrati in possesso di alcune foto Di una mia compagna di classe nuda Da domani non riuscirò a guardarla più in faccia Che guardi? Che guardi? Le gambe Ma è diplomatica Vivo in Inghilterra No, non te però Questo è troppo lungo Vai, vedi Vivo in Inghilterra Questa è una... Sì, va bene Vai, sì Vai Prima di mangiare le patatine Devo prima leccarle Per mangiare prima tutto il sale O il piccante che c'è sopra Se non lo faccio Mi sembra di aver sprecato una patatina Senza averla nemmeno gustata Non fumo Non bevo Non mi drogo E non ho un ragazzo E non ho un ragazzo Viamo in mezzo Viamo in mezzo Almeno drogate Cioè Cioè La mia vita si basa su libri Fantasy Il segreto Vado fiera Io odio quelli che scrivono Il segreto Non lo sopporto Vado fiera Vado fiera della mia vita Visto che l'altra opzione Era diventare come la maggior parte di voi Ebbè Ebbè E allora sì Non so che poi Cioè Cioè Raga Qual'è il problema De uno che si droga Scusami De uno che beve Magari c'è un ragazzo O una ragazza De una che si droga Qual'è il problema Cioè Spiegamelo Trovevo una cartolina Gli auguri Di auguri Che mi regalarono Gli auguri Cioè Capito Che mi regalarono Dei mezzi E con dentro soldi E il segreto Quindi intanto l'apro Per vedere se ci sono Se ci sono ancora i soldi Ma te sei scema Ma come cazzo Leggi Ma che ti metti le parole Ma che Va a culo Capito Dici Speravo che mi dice bene No perché Sai quando Quando tipo tu hai L'integrazione non è studiato Che provi Dici vabbè I polinomi No perché riguardi quel senso Io arrivo già alla fine Capito Questo episodio Ti ha ricordato per i segreti Non finiti di leggere Cioè Amore Il mio segreto è che non so leggere Il segreto Il mio segreto Che non so leggere Lo scriviamo Non ce vedo Quello Il mio segreto È che non so leggere Però scrivere si Allora leggi il secondo vai Allora Che è corto eh Cioè Ti fai entro 10 secondi vai Sono bellissima Mi sento una Barbie Eh Raffanetti ferma al commentario vai Ma cosa inseguti Ma l'unica cosa che nessuno sa è che ho i capelli Ho una perrucca Ottino È sconvolgente eh Non mi amore Stai a me Sessibile È riuscita a leggere da male comunque Cioè lei scambia i possibili parole Sì sì Cos'è come si chiama sta cosa? È brava Quando gioco online su minecraft Metto un account falso con il nome di capo bastone E devasto le case palazzi Poi esco e rientro con il mio account E mi codo le reazioni dei malcapitati Se sapessero che sono stato io mi farebbero la pelle Ma non è così facile beccarmi i paoli di rosi Ha 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 Che fai su minecraft quando ci giochi Ma chi ci gioca? Ma che ci gioca? Scusa Cioè Quando faccio così Sempre quello BOOM Oddio Vieni ragazzi se vi è piaciuto questo video e volete vedere un altro episodio di Scheletto con lei Quanti è che dobbiamo lasciare? Dai mi tengo basta 10.000 Eh Eh Mi siete nelle basse eh 10.000 so comunque tanti comunque Da questo numero sicuramente scaturito dalla sua fantasia Deciso autonomamente da lei Cioè Sì sì Diciamolo E niente ragazzi Da lei è tutto Da te chi sei tu Presentati Era sicato No Non sta a capire proprio Oddio Ma c'è una faccia arrabbiata Magari ci sta bene Ciao Valerio Un piacere Amore Amore cosa amore L'amore L'amore questo amore Bene ragazzi è tutto Sì perché al prossimo video ricordiamo 10k like per vederla di nuovo Bella Ciao Non me tocca Ciao Grazie per la visione!